La morte di Giulia Morante 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 Così fu spezzata la giovane vita di Giulia. Sembrava un episodio come altri, un triste dolore da portarsi dentro. Eppure, un giorno, successe che... Quel dono così semplice, ma pieno d'amore, era il segno che Giulia non era stata dimenticata. Il ricordo degli altri era una nuova vita per lei, e da quel giorno, chiunque passava di lì, lasciava un fiore in sua memoria. Purtroppo, col passare del tempo, le persone cominciarono a dimenticarsi di lei. Sembravano non accorgersi più della sua presenza. Presi dai loro pensieri, le passavano accanto senza notarla, quasi non fosse più lì. Nessuno tra i presenti le donava più uno sguardo, un sorriso, un fiore. Fu così che, come un ricordo spiedito dal tempo, lentamente, la ragazza svanì, morendo una seconda volta. Spesso dimentichiamo troppo facilmente ciò che è accaduto. E questo fa sì che le ingiustizie perdurino nel tempo. Tenervivo il ricordo vuol dire prendere coscienza, non voltare lo sguardo. Conoscenza e memoria sono il primo passo per riprenderci il nostro futuro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.